Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, una serie di furti si sono verificati nel territorio aretino nelle scorse ore. È stato preso di mira ad esempio a Sansepolcro il bar della Bocciofila. Bocciofila è stato subito identificato e denunciato il responsabile. L'uomo dopo aver forzato gli infissi dell'ingresso principale aveva scardinato una seconda porta e si era introdotto all'interno del bar dove aveva in questo caso preso di mira il registratore di cassa e tentato di rubare anche un televisore. E nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha dato in esecuzione un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'aggravamento di un'altra misura cautelare nei confronti di un quarantenne responsabile di numerosi furti commessi nei confronti di esercizi commerciali proprio del centro città. L'uomo sebbene sottoposto a divieto di dimora ad Arezzo continuava appunto ad effettuare i furti e adesso si trova presso il carcere di San Benedetto. Un altro furto è accaduto al Conad ex Santa Prisca di via Guido Monaco proprio nelle scorse ore. Un uomo aveva portato via prodotti alimentari, l'intervento è stato della Polizia e l'uomo è stato denunciato. Si tratta di un pluripregiudicato già destinatario di avviso orale da parte del questore di Perugia. Adesso spezziamo un attimo la pagina della cronaca parlando di questo incontro, questa presentazione che è stata sostanzialmente una presentazione davvero blindata perché c'era in pericolo appunto di alcune contestazioni. Parliamo della presentazione del libro del generale Vannacci. Noi vogliamo portare cultura ad Arezzo, non siamo né in un bunker né in una città assediata, siamo qui per fare cultura e per presentare un libro. Quello che noi come Associazione Cultura Nazionale ci siamo prefissati e stiamo riuscendo a fare. In una casa dell'energia blindata da forze dell'ordine e sicurezza privata per il timore di contestazioni che poi non ci sono state, l'Associazione Cultura Nazionale ha portato ad Arezzo il generale Roberto Vannacci con il suo mondo al contrario. Stupito no perché sicuramente sono tutte misure che sono state prese consapevolmente. È chiaro che in un paese libero e democratico come l'Italia stupisce un po' perché per presentare un libro ci sia bisogno di uno spiegamento di forze dell'ordine di questo tipo. L'articolo 21 della Costituzione ci permette di esprimerci liberamente senza censure. Quindi oggi è giusto che ognuno esprima la propria idea, ovviamente con un contraddittorio creato in maniera corretta, senza nessun tipo di disturbo l'uno dell'altro, ovviamente con la presenza dell'autorità perché è giusto che assicurino un luogo che possa essere congeniale a tutti. Un volume accusato di affermazioni sessiste, omofobe e in piena violazione della nostra Costituzione. Accuse che l'autore e tutti coloro che hanno voluto questo evento ad Arezzo rimandano al mittente. I gay non sono normali, le persone di coloro non hanno i tratti somatici degli italiani, la dittatura delle minoranze eccetera. Ecco il libro è solo questo oppure c'è molto altro e comunque è spiegato quello che è. Ma guardi, il libro parla dei paradossi della vita moderna, qualsiasi essi siano. Quindi a partire da una prospettiva riguardo l'energia, da una prospettiva riguardo l'ecologia, sino a quelle che fondamentalmente vengono inglobate da quella che si chiama la woke culture o la cancer culture. Quindi quest'idea che dobbiamo svestirci del nostro patrimonio culturale, delle nostre tradizioni, delle radici, del suolo. Non c'è più nulla che sia scritto nella vita. Tutto può essere contestato, qualsiasi cosa, tutto è soggettivo, tutto diventa relativo. E quindi non è più vero che siamo stati sulla luna, è stata tutta una messa in scena, ma chi l'ha detto che la terra è rotonda, ci sono anche, perché non credere che sia piatta, ma perché non pensiamo che invece di essere uomini possiamo essere donne, ma chi se ne frega se abbiamo dei genitali, tutto sommato posso chiamarmi donna anche se ho dei genitali maschili e viceversa. Quindi tutto diventa assolutamente relativo. E anche la semantica è passata in secondo piano, perché l'offesa è chiaramente individuata dalla legislazione nazionale. Se io dico a una persona che non è normale, non la sto offendendo. Anche perché se voi in quella frase togliete la parola omosessuale, la sostituite con una qualsiasi altra parola a vostra scelta, nessuno si sente roffeso. Ancora cronaca, un pedone è stato investito intorno alle 4 di questo pomeriggio a Montevarchi in via Meuccio Ruini. In questo caso è stato vittima un uomo di 35 anni, trasportato poi con eliso corso in codice rosso alle scotte di Siena. Sul posto un'automedica del Valdarno, un'ambulanza della Misericordia e i Carabinieri. Prima gli ha risposto con un chiarissimo dito medio, poi non contento gli ha anche sputato. Ennesima aggressione ai danni di uno degli autisti di bus ad Arezzo, che tornano dunque sotto i riflettori per un nuovo episodio di violenza. È accaduto lo scorso lunedì 23 ottobre. È inaccettabile, spiegano i sindacati in una nota, subire questo tipo di atteggiamenti. Il nostro collega giustamente ha scelto di sporgere denuncia. L'uso del teaser e il tratto San Zeno-Palazzo del Piero della Due Mari nel prossimo consiglio comunale che tornerà domani a riunirsi ad Arezzo a distanza di una settimana. L'adunanza inizierà alle 9 con la possibilità da parte dei cittadini di seguire la diretta nel sito home page del comune di Arezzo nel canale YouTube. Torniamo a parlare della stazione Medio Etruria, perché il prossimo 28 di ottobre ci sarà un incontro per sostenere l'ipotesi rigutino. La stampa di oggi addirittura conferma, grazie ad un'automobilista che ha misurato da Perugia a Creti, occorre più di 60 minuti. Insomma, se ne facciano una ragione. Non chiediamo né poltrone, né incarichi, né appalti, né commesse. Soltanto la realizzazione di un'opera pubblica che non può più essere rinviata se ne die. Tra poche ore il tavolo ministeriale su Medio Etruria con le analisi costi-benefici sulle ipotesi in campo. Un tema più che maestringente del quale si parlerà anche ad Arezzo nel corso dell'iniziativa dal titolo Stazione Alta Velocità a Rigutino, in programma il 28 ottobre nella Sala dei Grandi della provincia di Arezzo, organizzato dal Comitato Sava e dall'associazione tra Tevere e Arno. Io prendo spesso il treno di alta velocità per Milano, raramente partendo da Arezzo, più delle volte partendo da Firenze, perché non c'è, ad Arezzo. E passando vedo sempre un bel monumento che è la stazione Mediopadana, allora Mediopadana-Reggio Emilia, tra Bologna e Milano, tra Firenze e Roma, perché non Medio Etruria. Quindi l'oggetto della discussione è la necessità di avere una stazione Medio Etruria, cioè tra Firenze e Bologna. Il luogo più indicato, più semplice, economicamente più vantaggioso è Rigutino e lo dimostreremo. A confronto politici e tecnici. Siamo abbondantemente convinti, sulla base degli studi universitari, di tecnici, che hanno comparato tutti i presupposti oggettivi, gli stessi che l'Europa chiede a tutti gli Stati membri in ambito di mobilità sostenibile, che le stazioni vadano fatte in linea, sull'alta velocità, là dove concorrono più condizioni, ripeto, oggettive. Non ci siamo inventati proprio nulla. E quei 246 treni giornalieri che percorrono il corridoio direttissimo Roma-Firenze, attraversante ben 82 chilometri di tracciato nella provincia di Arezzo, senza prestare servizio, ci sembra oggi, più di ieri, una necessità urgentissima, non più rinviabile. E allora, da un'opera pubblica che ancora, insomma, si deve fare, e per la quale ci pare che, insomma, la strada sia ancora davvero lunga, Lunga, altre opere, invece, in questo caso, portate avanti dal Consorzio Bonifica 2 Alto Valdarno per mitigare il rischio idrogeologico nella zona del Cerfone. E tutto questo, insomma, tutti gli interventi sono stati decisi dopo l'alluvione del 2019. Interventi che si sono resti necessari dopo l'alluvione del 2019, quindi oggi siamo particolarmente soddisfatti di questi importanti interventi che, insomma, sono anche cospicui, circa 250 mila euro appunto sono stati emessi in campo appunto per mettere a posto questi tratti. Erano state le piogge prolungate e violente che nel novembre 2019 avevano colpito la provincia di Arezzo a pesare gravemente sul Cerfone e Padonchia. A Monterchi, in particolare, quattro punti erano apparsi critici ai tecnici del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, impegnati in un primo sopralluogo assieme ai colleghi del Comune. Da qui il maxi intervento per rimettere in forma i due corsi d'acqua. A fianco all'attività di manutenzione ordinaria, costante e programmata, che il Consorzio fa tutti gli anni sul reticolo di gestione e quindi anche qui a Monterchi, in questo caso abbiamo affiancato un'azione straordinaria. La costruzione di queste difese di sponda, grazie a finanziamenti della protezione civile, quindi diverse dal ruolo di contribuenza, per risolvere criticità particolari. Criticità che vanno attenzionate e appunto risolte anche in maniera tempestiva proprio per garantire una maggiore sicurezza dei territori. In questi quattro interventi generalmente sono state ricostruite le sponde con inserimento di massi al piede, in modo da dare stabilità e protezione al piede. In due di questi tratti sono state inserite anche delle geostuoie naturali in fibra di cocco che permettono un rivestimento anti-erosivo della sponda soprastante e cercheranno di tutelare la sponda anche dall'aggressione degli animali selvatici. Siamo alla politica. Laura Boldrini e Roberto Fico saranno il prossimo sabato 28 ottobre alle 17 al centro di aggregazione sociale Colle del Pionta ad Arezzo per una tavola rotonda dal titolo Sanità pubblica e diritto alla salute, le scelte della politica. L'evento vede l'organizzazione dei gruppi consigliari del Partito Democratico e Arezzo 2020 per cambiare a sinistra del Comitato Parco di Via Emilia. Saranno proprio Francesco Romizzi e i rappresentanti del Partito Democratico e del Comitato stesso a introdurre il dibattito. Si parlerà anche di politica ma soprattutto della storia d'Italia e di tanti aspetti che riguardano l'educazione civica nella scuola di formazione civica che ha preso il via proprio ieri presso il Palazzo di Fraternita. Tutti gli incontri andranno in onda in esclusiva sulla nostra emittente. La prima messa in onda è proprio questa sera alle 21. Vediamo il servizio. La speranza di oggi è che tutti i ragazzi, le centinaia di studenti, di ragazzi delle scuole medie e superiori che parteciperanno, che saranno i discenti di questa scuola di formazione, tutte le centinaia diventino persone interessate alla cosa pubblica, amministratori pubblici, parlamentari che comunque si interessino alla cosa pubblica. Prima lezione per la scuola di educazione civica promossa dall'Associazione Intratevere Tarno due quinte del liceo scientifico Redi di Arezzo hanno ascoltato all'interno del Palazzo di Fraternita nella Sala della Musica la prima lezione del professor Camillo Brezzi, coaudiuvato da Andrea Biagiotti. Educazione civica, del ricordare la storia, ce n'è sempre bisogno, è importante e allora gli organizzatori, Stefano Tenti, mi ha concesso l'onore di iniziare e iniziamo dalle origini della Repubblica, della Repubblica italiana, cioè il 46, primi 20 anni, fino al 68. Un panorama alternandomi con delle letture di passi dei diari di Pieve Santo Stefano che sono fatti da Andrea Biagiotti, così da mixare la storia, la ricostruzione storica con le fonti, le memorie della gente comune che è utile proprio per ricordare. Proprio al 1948 si dovevano fare le lezioni cofernative, perché del governo c'erano magari che comandavano i comunisti e quinte il governo di Casperi a costa della vita, i comunisti se ne dovevano antare del governo per forza, mentre che avevano stato i comunisti a fare perdere il fascismo perché i parteciane erano tutti upirai di masse, tutte comuniste. Io? Io era nella casetta e nella casetta tutte quelle che passavano di tutte le partite lasciavano manifeste e io non li curava, a tutte le partite ci li faceva ammettere. E come finìo tutto? Non ci fu niente. Io mi aveva saputo quartiare sia con la democrazia cristiana sia con il socialismo e magari con il comunesimo era di accordio con tutti i partiti perché alla casetta cantoniera tutti i partiti passavano e io ci diceva che era con loro ed erano tutti restati contenti. Gli incontri sono rivolti agli alunni del triennio delle scuole superiori, agli insegnanti, agli universitari e a chiunque fosse interessato alla vita politica, sociale ed economica. Grazie alla convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena La scuola lavora anche con docenti universitari e riconoscerà un attestato al raggiungimento delle presenze. Tra l'altro l'educazione civica è stata inserita quattro anni fa nel curriculum scolastico per cui chiaramente noi docenti non abbiamo la preparazione per insegnarla come si dovrebbe. Quindi diciamo che questa opportunità aiuta e di supporto alle scuole affinché questa disciplina che ha voto in pagella e concorre pure alla valutazione della maturità possa essere anche arricchita da questa parte esperenziale. Per ampliare il pubblico e la diffusione di questi interessanti e quanto mai necessari momenti di formazione tutte le lezioni andranno in onda in esclusiva su Arezzo TV. Perché bisogna studiare? Perché l'abbreviazione e il super bignami della cultura che sono i social sono a mio parere molto utili per mille motivi ma quanto di più deleterio ci sia per voler interessarsi della cosa pubblica. Non è una cosa semplice e la semplicità che viene predicata dai social non è quella che serve per fare gli amministratori della cosa pubblica appunto. L'arrivo è quello di avere decine, centinaia, basterebbero molte unità di giovani o meno giovani che dedicassero, che considerassero la politica, l'amministrazione come un servizio, come dovrebbe essere. Assegnato a rondine il premio De Sanctis per i diritti umani la motivazione mette in risalto l'originalità del metodo di risoluzione del conflitto che implica che le persone, riconoscendosi nel reciproco rispetto e dignità siano capaci di ascoltare e di dialogare. La cerimonia si è tenuta ieri presso la Corte Suprema di Cassazione. I quadri degli studenti del liceo artistico nelle camere della RSA Serri Stori sono stati donati 22 dipinti che faranno da cornice alle nuove camere attualmente in fase di realizzazione. Sono stati realizzati durante lo scorso anno nell'ambito del progetto Alternanza Scuola-Lavoro, spiega il professore Ernesto De Seta e ha visto il coinvolgimento di 20 studenti che frequentano appunto le classi seconda, terza, quarta e quinta proprio dell'intirizzo arti figurative. Chiusa a Cortona, Signorelli 500, una mostra che ha avuto davvero un enorme successo. La scommessa è stata vinta. Un grande impegno, una grande squadra e davvero un grandissimo risultato. Oltre 35.000 visitatori, una grande soddisfazione che ci ripaga tutti gli sforzi messi in campo. Evidentemente fare squadra e portare la bellezza, perché di questo si tratta, nella nostra città, premia tutti. Con oltre 35.000 visitatori, di cui 900 solo nell'ultima giornata, si è chiusa la mostra Signorelli 500, maestro Luca da Cortona, pittore di luce e poesia, inaugurata al MAIC lo scorso 23 giugno. Un'esposizione nel 500esimo anno dalla morte che ha riportato il grande pittore al centro del rinascimento italiano. Abbiamo abbattuto tutti i record di presenze a Cortona e quindi oggi non è soltanto il giorno di chiusura, è il giorno dell'inizio di una grande promozione che arriverà sul territorio, appunto per i nostri Signorelli. Oltre 30 le opere provenienti da musei e collezioni private di tutto il mondo che sono state raccolte nell'allestimento al secondo piano di Palazzo Casali. È stata una bellissima occasione, una grande esperienza, un grande lavoro di squadra. Il privato e il pubblico sanno e possono lavorare insieme. Le celebrazioni, signore Liane, hanno visto la realizzazione di alcuni restauri, un catalogo e una guida dedicata agli itinerari che da Cortona si diramano in tutto il centro Italia. Siamo molto soddisfatti della riuscita che ha avuto l'idea di coniugare la mostra con la proposta di itinerari, sia in città che sul territorio, perché la nostra idea, il nostro intento è di non far spegnere le luci su Luca Signorelli, ma al contrario di fornire suggestioni perché tutti i residenti, i turisti, vadano in cerca delle opere del grande maestro in un territorio così ricco come è quello della Toscana, dell'Umbria e delle Marche. Ed infine siamo allo sport, questa sera spazio al podismo e all'atletica, iniziamo con la presentazione della Maratonina Città di Arezzo che si terrà domenica prossima. 900 iscritti alla gara competitiva provenienti da ogni regione d'Italia, ovviamente presenti anche le punte di diamante dal continente africano, ai quali si aggiungono famiglie ed appassionati, sfondando così abbondantemente quota mille. Sono questi i numeri della 24esima edizione della Maratonina Città di Arezzo, in programma domenica 29 ottobre con partenza alle 9.30 da Via Roma e arrivo sempre ai portici. È una festa dello sport per tutti e mi auguro che sia una festa anche per tutti i cittadini che comprenderanno chiaramente domenica mattina qualche disagio automobilistico, ma come sempre invito ad uscire di casa a fare una passeggiata. Presenti in città anche atleti di assoluto valore. L'anno scorso è risultata la manifestazione con il ranking più elevato per quanto riguarda le mezze maratonine d'Italia e quest'anno non a caso c'è un atleta etiope che poi è stata vincitrice nel 2019 della Scalata del Castello, Helen Tola, che verrà qui ad Arezzo per affrontare, per avere uno dei migliori risultati al mondo nella mezza maratonina. E non a caso daremo il pettorale numero uno a questa atleta perché è quella più accreditata da un punto di vista tecnico. Per quanto riguarda il settore maschile ovviamente avremo atleti del Kenya, dell'Etiopia, del Burundi, del Marocco e anche alcuni atleti sudamericani che saranno presenti a questa competizione per ottenere il risultato che l'anno scorso è stato strabiliante perché siamo scesi sotto l'ore 1. Quest'anno cercheremo almeno di mantenere quella linea lì. Dalla municipale l'appello alla pazienza e alla collaborazione. Il percorso è simile a quello degli anni precedenti quindi si chiede che per una mattina si lasci i veicoli nel garage e quindi si viva la città a piedi. Torna anche il cuore in corsa per le scuole aretine e il villaggio sport e salute in piazza Sai Jacopo. Sicuramente c'è una grande partecipazione da parte del nostro istituto, studenti ma anche docenti, personale scolastico in generale proprio perché è una bella iniziativa di sport ma proprio a livello sociale. È un modo per vivere la città e la nostra è una scuola della città di Arezzo quindi c'è questa volontà di vivere la città in un contesto sportivo positivo che ha una grande presa su tutta la nostra comunità scolastica. È un modo per avvicinare i ragazzi al podismo e comunque è un modo per farli stare insieme, per far passare loro una bella mattinata e perché no magari per invogliarli a diventare degli agonisti. In strada infine anche i fischietti coinvolta la sezione AIA di Arezzo. È una corsa tappa a livello nazionale e si sviluppa all'interno di manifestazioni locali. Quest'anno è stata accolta la nostra richiesta come sezione arbitri di Arezzo e come Comitato Regionale Arbitri Toscana di poter partecipare come associazione nazionale arbitri. Ancora parliamo di atletica perché appunto l'Alga Atletica Arezzo archivia la stagione di gare. Il calendario del 2023 è terminato con l'ultima tappa del circuito provinciale delle esordie di Di Poppi che ha impegnato nel biathlon le giovani promesse della categoria esordienti nate dal 2012 al 2017. La somma dei risultati ottenuti nel corso della stagione ha permesso di stilare le classifiche finali con l'Alga Atletica che ha vissuto appunto la gioia di salire sul podio con ben quattro bambini. Bene, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio allora con la messa in onda, come dicevamo in esclusiva, su Arezzo TV della Scuola di Formazione Civica, un'iniziativa voluta dall'Associazione Tratevere Tarno e che è stata ospitata, come in questo caso, dal Palazzo di Fraternita. Grazie per l'ascolto e arrivederci. Grazie per l'ascolto e arrivederci.